Visto per la prima volta durante l'ultimo State of Play di Sony, Arcade Gaddon è uno sparatutto multiplayer che può essere giocato in solitaria o in modalità cooperativa fino a quattro giocatori. Autoprodotto da Elphonic, Arcade Gaddon ha molto carattere, è una colonna sonora davvero stilosa ed è previsto in uscita nel 2022 su PS5 e PC via Epic Store. Abbiamo avuto modo di provarlo in esclusiva. Ci teniamo a precisare che le catture che vedrete in questo provato appartengono a una versione precedente all'early access al quale potete accedere già ora. Detto questo, ecco le nostre impressioni. Da soli, ma sempre connessi online o in compagnia di altri tre amici, Arcade Gaddon mette i giocatori davanti a una serie di sfide pressoché infinite e di difficoltà crescente in un contesto procedurale. Gli step iniziali sono molto basilari, si sceglie il personaggio passando attraverso la personalizzazione con oltre 700 oggetti a disposizione, si sceglie una tra le due delle diverse abilità speciali e poi ci si lancia in questa battaglia senza sosta che dura fino all'immancabile game over. Non è nemmeno necessario scegliere la difficoltà perché questa aumenterà gradualmente nel corso delle sparatorie. C'è per chi lo desidera la possibilità di azionare un macchinario spendendo un po' di moneta in game per aumentare temporaneamente la difficoltà di gioco, ma è una scelta, non un obbligo. Del resto lo scopo di Arcade Gaddon è soltanto uno, divertire, e dobbiamo ammettere che effettivamente sembra riuscirci piuttosto bene, anche sul piano visivo. La grafica è ben colorata, lo stile esalta la mancanza voluta in termini di dettaglio, e anche se le tinte accese possono ingannare un occhio poco attento, ricordando il popolare Fortnite, il titolo Iphonic ne prende le distanze grazie a un character design più asciutto e livelli affascinanti. Al momento del gioco è in Early Access e c'è ancora tantissimo da aggiungere. Ad esempio sono presenti soltanto tre diversi biomi e due di quelli che potremmo definire boss di fine livello. In Arcade Gaddon i giocatori sono spiti a giocare fino a quando tutti i partecipanti alla partita non saranno morti e non ci sarà nessun altro nei paraggi che potrà resuscitarli. Anche i tre biomi sono casuali e sempre in movimento, in una perenne miscela che ci farà saltare da un'ambientazione all'altra senza continuità, imbracciando i fucili pronti a decimare le orde nemiche che si opporranno al nostro High Score. A tal proposito è presente una classifica per confrontarsi con i giocatori di tutto il mondo. Quando avremo ucciso abbastanza nemici per riempire l'indicatore apposito potremo decidere di andare ad affrontare il boss di turno, uno dei quali è rappresentato da un imponente ragno meccanico capace di lanciare letali salve di missili. Le armi di Arcade Gaddon si trovano sul campo di gioco, stessa cosa le loro munizioni, ma tra una sfida e l'altra sarà possibile riempire i caricatori attraverso dei distributori automatici posti in peculiari zone che divideranno ogni arena. Le chiamiamo arene perché di fondo i livelli del gioco sembrano proprio questo, zone nelle quali affrontare i nemici e svolgere semplici missioni, come difendere una particolare area oppure occuparne un'altra mentre ondate di nemici si riverseranno contro di noi. Inoltre, tra tanto PvE, Arcade Gaddon propone anche delle aree dove dovremo vedercela contro i nostri stessi compagni, a volte proprio come in un classico deathmatch tutti contro tutti, o in una sorta di competizione dove per vincere sarà necessario sparare a una palla fino a spingerla nella porta avversaria. Sia nei livelli normali che ci vedranno contro i nemici che in queste aree nelle quali la sfida sarà contro gli amici, alla fine verremo premiati con un punteggio che ci permetterà di capire chi sarà stato il più bravo del gruppo. Come intuibile, Arcade Gaddon non è assolutamente da prendere sotto gamba. Nonostante i contenuti non siano ancora definitivi, visto che il gioco è in Early Access, il divertimento è già garantito, specialmente se avete un gruppo di amici a cui piace sparare tanto e pensare relativamente poco. Allora lettori di Multiplayer.it, vi ha convinto questo Arcade Gaddon? Gli concederete una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri provati esclusivi. Qui accanto potete trovare alcune proposte video che potrebbero interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine. Grazie per la visione!